ragazzi oggi sabbia sempre in un lido a scrocco scelto che ormai abbiamo trovato il metodo per non pagare già lo sapete infatti qua non ci hanno dato manco braccialetti niente conto è passato da qua salta guardate non è che a passi sta collana sono 16 per conto è già sdraiato lì c'è la mia un fiocco delle confezioni regalo di natale scelto guardate che meraviglia quest'altro lido ragazzi dopo vi facciamo vedere cosa mangiamo perché cacucinano hanno scelto come devo mangiare tu sei pazzo amore i prezzi sono bassi devo dire tipo ho visto un panino 12 euro a 12 euro insalata 13 si può fare per noi che siamo vip e poi pittia che non fa pavari nenti e vabbè comunque ragazzi siamo al mare quindi è giusto che scelto a dopo a dopo